Ehi ragazzi, io sono Callari e oggi siamo qui ancora su Fortnite Sinceramente oggi voglio far uscire un video diverso Ma appena ho scaricato l'aggiornamento di questo fantastico gioco Ho scoperto che erano 3GB di bug Anzi, non erano solo 3GB, erano anche quasi 4GB di bug Andiamo a vedere i primi, che si possono già vedere qui nel negozio oggetti Andiamo ad aprire Beard Force One, o come si chiama lui E leggiamo la descrizione, sta scritto Correggi Desk Quindi i ragazzi tra Epic Games non hanno avuto il tempo, chissà come mai Perché non è che sono scarsissimi No, di scrivere la descrizione e hanno sbagliato Primo errore in quell'aggiornamento fantastico Ecco, tutto bene E vedete qui Vedete, oddio mio, questa skin è davvero figa Se avessi i bug bucks per comprare la comprerei Ma invece, ne riconcina qui E' tutta buggata, vedete qui, qui, qui Lo faccio così adesso, ecco, è tutta buggata Tutta buggata Sinistra, destra, ok Mi andava di farlo, però c'è il ciccio E il ciccio è potentissimo Adesso devi andare a farci anche qualche partita in singolo Per vedere i bug che si possono trovare Ecco qui, vedete la scritta di caricamento Quanto è brutta Bruttissimo questi pallini qui E' bruttissimo, è un'immagine qui a destra Primo bug, o meglio questo non è un bug, questo lo scrivo proprio di cui ciò Ecco, la grafica è normalissima come al solito Ma vediamo di cercare un'arma Se la trovo, eh, non l'ho trovata Quindi dovremo accontentarci di trovarla nel punto dove andiamo a giocare Ragazzi, cambio di programma La porta non la faccio in singolo E' arrivato un cavaliere negro Meglio negro non si può dire più su YouTube Italia Un cavaliere di colore Che vuole giocare con me Mi ha supplicato di fargli vedere quanta potenza ho E quindi andiamo a giocare Dai, mettiti pronto, cavaliere nero Ok ragazzi, stavolta posso vedere la texture delle armi direttamente qui Non come il caricamento di prima Quanto è brutto? Secondo me sono tornato al tempo della vita Forse l'invito era pure me Sì, sì, l'ho visto, me l'hanno notato Forse è questo qua che provava tutti i bug Secondo me Sarò quel tempio Sì, per fare quel tempio hanno speso così tanti soldi Che hanno dovuto tagliare tutti i soldi All'ambra che ha metterlo in vetri Mia doppietta epica Tanto ma questo mi uccide Che trova Mamma che scarso E mano, sono proprio mongoloide Mi uccide col piccone, ovviamente Oh, a terra, madonna mia, ragazzi Ho fatto 70 di danno col piccone Perché la doppia Ce ne va la gialla, ottima Madonna, c'ho 30 di nero Sono messo male, male, male Oh, il double ponto Eccezionale, veramente E' proprio uno scoop Mi scenderà a pennafali E' veramente emozionante, ragazzi Tutte le cose, tante cose Che potrei farci solamente in video Una partita Ho fatto tutto Tra l'altro spero che mi sento Perché l'audio lo sento un po' alto Mannaggia Ceos Oh mio dio La canna di impatto E' una persona moderna questa qua A terra Abbiamo quest'altro slurp a sto punto Mi prendo lo scudo Lo vuoi tu? No Ok E provo a prendere la granata in impatto Tutto quanto prendo Tutto mio Davvero? Eh, si vede che non sei moderna Non da giocare a sto gioco Mi sembra, come si dice Prendere il passo con i tempi Perché altrimenti Oh mio dio Una festa di attenzione Qualche vieni qua Che ti dovrete liberi il cecchino Oh, parkour Ah, vedete i muri che si bugano, ragazzi Un altro bug Magari Mi metto la scena a rallentatore Eccola Uffa Uffa Hai visto? Solo con un cisto Bastante segreto in realtà Leo, c'è uno scudo da 50 Non lo sapevo sto fatto Lo sai che l'avevo cercato? Avevo provato a trovarlo Però non si è riuscito La cosa di finito Oh, la minica leggendaria La metto al posto della Barestra Dammi per ettili piccoli Dammi per ettili piccoli Non andiamo a prendere una cassa di munizioni Con la munizioni per il cecco L'idea che devi acutizzare la tua vista Non credo si possa dire acutizzare Dammi per ettili per il lagerati Ti devi per ettili per il cecco Ma, ma, si Oh, c'è su, lei O, ma, c'è sempre colpa tua Posso andare alla gianna Che ne dici? Vai, 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 vai Sono una strada più alta che puoi Sì, sì Vieni qua, vieni qua Niente, adesso Ma come è foutato, scuola materiali? Dimmelo che la continua Ma, valla facci, non di preoccupare La tastiera faccio Ho più di materiali Però vai, con la jump, perché con la jump è già avversata Non mi vedi? Ok, ragazzi, potremmo stare la jump Ti stiamo centamente la nostra Ma, qui, qualcuno ci spare e cadiamo E il festivirsi Vieni qua, quando vuoi fare Guardi, questi quelli, si muoverai Vai, dai, dai, si spance, si spance, si spance non ci avrei mai viva se è così è buggato anche la costruzione fantastico guardate come siamo più veloci della serie c'è gente avventura e vai grazie uomo ecco uomo che ho ucciso per prendere la jump mamma mia sta venendo sta venendo sta venendo mannaggia sta venendo e no vabbè dai che c'aveva sto qua dimmi che c'era il mio 4 no c'è uno scarlo visti da lontano ma è 18 per impiegare impossibile con il mio 4 io ho preso due volte la terra mannaggia ok adesso voglio farvi vedere quel bug orribile distruggere le orecchie però non se ci riesco che se tu costruisci mentre c'è la schermaglia poi quando hai che arrivi a terra se ne hai rumore tu 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 e poi appena atterri c'è ancora i materiali da costruzione in mano se ne prendiamo del legno però questa è la pietra? no proiettile vediamo se è così funziona ecco per me è funzionato è rimasto buggato ancora tutto qui vediamo che è schifo andiamo andiamo a tumeto 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 ecco sento ancora il rumore ragazzi ascoltate attentamente quel tu 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 in sottofondo spero l'abbiate preso non intendo il rumore non pensate ad altro mi raccomando andiamo a tumeto e vediamo di vincere siamo 100 perfetti ragazzi sarà una partita molto difficile più persone da eliminare però potrebbe essere la prima volta che faccio 98 kill perché se avete ragazzi io uccido sempre tutti io uccido tutti gli altri si mettono a piangere di piccolano che i tassi di confronto di vero la quale fa essere così troppo andiamo vediamo se il bug ha funzionato eh si sono ancora con i materiali da costruzione in mano una volta ho perso per questa cosa perché non riuscivo a tirare le piccolate al mio avversario c'è una cassa no no potrei aprire io perchè sta a dire il tempio cinese è mio guarda ce ne sono due di cassa eh una io e una tu se ne hai aperte tutte e due di bestia no no ne ho aperto solo una ok ragazzi andiamo in questo bellissimo tempio cinese ok una delle poche cose appunto buone di questo maledetto aggiornamento andiamo qui e oh mio dio cosa di decente la pazzia di scudo ci potrebbe servire molto andiamoci ho un M4 ho un posto di questa revolver vergognosa tanto ormai sono la stessa cosa stessi proiettili stessa arma ho una doppietta posso fare il doppio pompa un'altra doppietta posso fare il triple pompa il triple pompa a che serve? deve essere leggendario ce l'ho no ma poter aggerti pezzoni mamma mia che vuoi fare il triple pompa? no ma c'è un po' qua questo lo segnalo come ogni video ormai Tronos è zorme lui è un sciattone invece di chiudere paragon pensate ai numerevoli bug che affliggono il vostro capolavoro lei era non ho sbagliato sono un tesoro ragazzi bene ragazzi anche questa volta si conclude con una segnalazione a qualche meschino cittone del mondo di fortnite bug mi sono piaciuti ringraziate il reggica in mezzo di update di fortnite e i tre quarti d'ora spesi dal mio computer a scaricare niente commento condivisione vi farò vedere ai vostri amici quanto faccia schifo questo aggiornamento magari vi vedremo tra un anno io direi mio dio quando faccia schifo questo fortnite battle real in quel di che giorno è 15 febbraio 2018 detto questo ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.